Si sono celebrati i funerali di Andrea Coppa, il giovane 17enne pachinese deceduto venerdì scorso in un tragico incidente stradale a Noto. Sono circa le ore 22.30 quando il giovane, assieme ad un amico, si reca nella capitale barocca per trascorrere una serata estiva con degli amici. Giunto quasi all'entrata della città, il motociclo Piaggio Beverly 125 condotto da Andrea si scontra con una vettura, modello Mercedes classe A, che percorreva la strada statale 115 in direzione Avola. Tremendo l'impatto tra i due mezzi, nonostante l'errepentino intervento del 118 partito dall'ospedale Trigona di Noto, per il ragazzo che indossava regolarmente il casco non c'è stato nulla da fare. L'amico, seduto dietro, ha riportato invece delle ferite ed è stato trasportato con ambulanza presso l'ospedale di Maria di Avola. Il leso, l'autista della vettura, anche se provato, è sotto shock. Saranno i rilevamenti redatti dai carabinieri di Noto a ricostruirne i fatti, servendosi anche dei vari testimoni che hanno assistito impotenti al violento scontro. La notizia della scomparsa di Andrea Coppa ha gettato nello sconforto l'intera comunità di Pachino, in particolar modo tra i giovanissimi, fetta della società pachinese, in cui il ragazzo era molto amato per il suo essere solare, allegro e molto cortese. Il sindaco di Pachino, Roberto Bruno, ha dichiarato il lutto cittadino durante la celebrazione della Santa Messa e del corteo funebre, partito dalla chiesa di San Corrado.